Ci hanno chiesto alle nazionalità di supportare un tema emergente, caldo e molto molto impattante che è quello della disabilità che il conflitto siriano ha prodotto. L'esperienza fatta a Damasco lo scorso anno è stata molto bella perché abbiamo trovato delle persone con un interesse molto alto, con una preparazione di base alta, con una serietà professionale importante, ma che da 7-8 anni erano totalmente isolate e quindi subivano le conseguenze della guerra che chiaramente ha reso difficile anche il sistema pubblico di salute e quindi l'ha veramente messo a terra e dà una voglia incredibile di avere forti, di imparare, di aggiornarti, praticamente 8 anni di guerra sono 8 anni di isolamento. Quindi abbiamo trovato veramente delle persone exclusive che ci hanno accolto con grandissimo cuore, generosità, entusiasmo e con tanta voglia di andare avanti.